Buonasera Ministro Piantedosi, insomma, teniamo conto che sono le partenze, le partenze sono il problema, le partenze, quindi teniamo conto di questo, delle partenze col mare grosso. E' il mare grosso, insomma, il motivo per cui i naufraghi non sono stati salvati, questo è... Anche, anche, anche. Noi non possiamo rischiare la vita dei salvatori che vanno a salvare i disperati, noi prima dobbiamo salvare la vita dei salvatori, poi, evidentemente, eventualmente, se c'è tempo, allora anche quella dei disperati. Insomma, io quello che voglio dire è che sono i disperati che devono partire quando c'è bonaccia, perché se tu parti quando c'è il mare grosso, senza una barca attrezzata, con i suoi razzi di segnalazione, con le scialuppe di salvataggio ben attrezzate, stirate e lavate, ma anche un cucinino, dove fare uno spaghetto, un tosse, un caffè alla disperata. E' chiaro che in quel caso metti a rischio la vita dei salvatori, che è la prima che va tutelata, poi, eventualmente, quella dei disperati, ma in un secondo momento, evidentemente. Scusi, ma se lei fosse disperato non si butterebbe subito in mare? No, 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 e le spiego anche perché. Ecco, perché. Tu, disperato, devi chiedere di cosa posso fare io per i salvatori e non sempre cosa possono fare i salvatori per me. Ma cosa stai dicendo? No, ma non si può capovoggiare. No, mi scusi, ministro, ma non si può. No, 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 no. Cioè, bisogna salvare i disperati. Il problema sono le partenze. Questo ho capito. Sono le partenze. E' la stessa cosa con i pompieri, i vigili del fuoco. In che senso? Cosa c'entra nei pompieri? C'è un incendio in una casa all'interno della quale c'è una vecchina che grida aiuto, aiuto. Eh, succede ogni tanto. E' disperata perché la casa le va a fuoco. Eh, in quel caso arrivano i pompieri e la salvano. No, 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 e le spiego anche perché. Di nuovo. Perché? La vecchina deve avere anche la responsabilità che i pompieri si possono bruciare. Ma non è... Perché c'è fuoco. Ma no, ma non può la vecchina. L'aiuto, tu vecchina disperata, lo devi chiedere quando prevedi che la tua casa potrebbe andare a fuoco. Ma non può chiederlo prima. Non chiederlo quando la casa è già a fuoco. Ma no, è lì che serve l'aiuto. Quindi, prima cosa, tu vecchietta disperata che sei tra le fiamme della tua casa che brucia, devi chiederti che cosa ho fatto per provocare questo incendio. Ma no, devi chiedere aiuto e basta. Forse avrò lasciato, insomma, il caramello sul fuoco. Ma che caramello? Il quale, sondando dal pentolino, è andato ad alimentare la fiamma del fornello. Ma cosa sta dicendo il caramello? Oppure, essendo disperata e avendo una vestaglia in acrilico che fa le cintille, le quali cintille poi sono andate a incendiare i capelli, propagandosi alle tende, le quali hanno incendiato la casa, allora vede che il problema è l'irresponsabilità dei disperati. No, no, mi scusi, ma lei continua a dire frasi algide, prive di umanità. Purtroppo, qualche volta mi capita. Eh, lo so, però è un problema. Queste frasi, algide, dissubirle. Da chi? Da me. Ah, ok, no, nel senso che le dice proprio... Ogni tanto mi decontestualizzo. Fa tutto lei, però... E mi ritaglio delle frasi agghiaccianti, talvolta di Sumai, ma ripeto, le subisco. Sì, però lei ha anche detto che si emoziona prima che le tragedie accadano. Vabbè, ma quella era una battuta per grammatizzare. Chiedo scusa se ho sbagliato, ma... Ho sbagliato, eh. D'altronde se sbaglia l'irresponsabile a partire. Eh. Potrò sbagliare io, ministro, a divertire? Eh no. Siamo pari. No. Io chiuderei la vicenda di Crotone dicendo, disperati, siamo pari. No.